Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 del 21 e 22 settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Gemma che, dopo essere rientrata in città, rifiuterà la proposta di lavoro che le è stata fatta dal grande magazzino. Spazio anche alle vicende di Anna che, in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, si ritroverà a fare i conti con una notizia che la lascerà profondamente senza parole. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 21 settembre 2022 rivelano che Gemma dopo essere rientrata in città deciderà di rifiutare la proposta di lavoro che le è stata fatta da Vittorio Conti. Pronto a prenderla di nuovo come venere all'interno del magazzino. La ragazza, però, nonostante le insistenze deciderà di non accettare tale offerta. Perché ha ricevuto un'altra proposta di lavoro. Qualcuno, però, si intrometterà e cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea. Intanto Marco ha scoperto la verità sul conto della contessa Adelaide, il giovane ragazzo sa che sua zia ha giocato sporco alle sue spalle in merito alla vicenda di Gloria. Un duro colpo per Marco che, a quel punto, non sa se dire tutta la verità a Stefania e quindi metterla al corrente degli inganni di Adelaide nei confronti di Gloria, oppure no. E poi ancora, una nuova puntata del Paradiso delle Signore 7 sarà trasmessa anche il 22 settembre in Prima Visione Assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Anna Embriani. La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con una telefonata che la lascerà senza parole e la sconvolgerà profondamente. Di cosa si tratta chi è che ha chiamato la moglie di Salvatore per metterla al corrente di questa notizia? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi. Matilde, invece, continuerà ad essere turbata da suo marito. Intanto Clara, dopo essere entrata a far parte del grande magazzino, si ritroverà subito in rotta di collisione con Irene, ma verrà aiutata da Gemma. Spazio anche alle vicende di Fiorenza, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 22 settembre 2022. Rivelano che la donna farà una proposta allettante ad Umberto. Chiederà al Comandatore Guarnieri di stringere insieme un'alleanza contro la Contessa dell'Aide e quindi unire le forze per combattere il nemico. Matilde, intanto, si ritroverà sempre più turbata dal comportamento e dall'atteggiamento di suo marito Tancredi. Grazie a tutti.